Il 16 e 17 febbraio prossimi a San Mugeo si terrà la consueta sfilata delle maschere che sono tipiche di questa comunità. Sarà un'occasione per visitare il Museo Tessile che sarà aperto e sicuramente un modo per conoscere l'arte e la cultura di questi luoghi che si basano per la gran parte sul tessuto e sull'arte tessile. Con noi abbiamo il direttore del Museo, Bainziu Krukku. Il Museo sarà aperto anche il giorno della sfilata, il Museo rimane aperto dal martedì alla domenica per tutto l'anno. In questa occasione si potranno visitare tre collezioni. Una è la collezione permanente, quindi la collezione storica del Museo che va dal 1700 fino agli inizi degli anni 50 e del 900. Sarà visitabile anche la mostra del Principe che la gruppa ha 18 manufatti realizzati grazie al contributo del Principe Aga Khan. Infine la mostra della collezione anno d'arte che è un concorso di idee realizzato nel 2013 e poi con i successivi tappeti realizzati dagli laboratori di San Mugeo. Ecco, questa è una comunità che, come dicevamo prima, fonda le sue radici nell'arte tessile. Ecco, c'è un rilancio in questo momento di tutto l'artigianato? Sì, sì, c'è un rilancio e San Mugeo sta rispondendo bene anche a questo periodo positivo. Ricordiamo che San Mugeo è il paese in cui esistono la maggior parte dei laboratori regolarmente iscritti. e quindi possiamo considerare San Mugeo come il centro della tessitura sarda. Ecco, a proposito di questo, volevamo anche ricordarvi che annualmente si tiene una mostra che ospita i maggiori artigiani della Sardegna. Sì, la mostra si ripete ogni anno, quest'anno siamo alla 53esima edizione e verrà fatta nel periodo estivo, come di consueto. Quindi San Mugeo conserva davvero tanti tesori, quindi cogliamo l'occasione per venire a visitarla e fare un salto al museo con, insomma, delle guide turistiche d'eccezione. Lei, insomma, giovanissimo, direttore museale? Sì, sì, direttore museale, ma al museo lavora un bel gruppo di guide che potranno, come dire, soddisfare tutte le curiosità dei visitatori. Siamo avanti con ordine, ultimo atto questa sera al Teatro Pazzo.